Credo di sapere chi è. La cosa non mi piace. Hermione, lei conosceva Silente. Potrebbe avere la spada. E' qui che sono morti, Hermione. E' qui che lui li ha uccisi. Lei è Batilda, vero? Dio, lasci faré a me. Signorina Batta, chi è quest'uomo? Parai. Lumos. Vita e bugie di Albus Silente. Vita e bugie di Albus. Zanghav. Ahaha. Sanna. Sella testa. Sanna. Henry! No, 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 no. No, 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 no.